Ciao e benvenuti sul mio canale! Io sono Alessia e oggi faremo insieme un workout per avere gli addominali scolpiti come li avevo prima di scoprire quanto sono buoni datteri ripieni di burro di arachidi. Scherzi a parte, faremo 10 minuti di esercizi tutti diversi per gli addominali con la modalità di 45 secondi di lavoro, quindi 45 secondi di esercizio e 15 secondi di pausa. Se non vedi l'ora di far lavorare un po' l'addome, assicurati di mettere un pollice verso l'alto e iniziamo! Grazie a tutti! 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 Tantiga, 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 Tantiga 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 Vaila 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 contigo Vaila 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 contigo A presto 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 A presto